Mister Peccato, la Cremonese ha disputato un'ottima gara, esce fuori complice il risultato dell'andata. Quanto rammarico c'è? C'è rammarico ovviamente quando non si riesce a centrare una qualificazione, a ribaltare un risultato, il rammarico c'è. Come ha detto lei, la partita è chiaramente da vedere sul doppio scontro. Noi l'andata siamo stati sicuramente inferiori, probabilmente anche perché abbiamo giocato buona parte della partita in inferiorità numerica. Per cui sicuramente lì si è complicato un po' il nostro cammino. La partita di oggi sapevamo che dovevamo venire e provare a vincere con un doppio vantaggio. Oltretutto sapevamo, avevamo messo in previsione di dover rischiare qualcosa. Abbiamo rischiato, perché abbiamo rischiato. Però ci abbiamo provato fino alla fine. Alla fine credo che nell'arco dei due incontri vada avanti la squadra che ha meritato di più. Nell'insieme delle due competizioni, delle due partite. Per cui il rammarico c'è, chiaramente. Però bisogna anche essere onesti e dire che il Frosinone, a mio modo di vedere, ha centrato una qualificazione in maniera meritata. Può giocarsene il Frosinone con le altre, visto che in semifilale ci sono tre squadre che erano protagoniste del Gironia? Questo non lo sapevo. Credo che se non sbaglio loro incontreranno il Brescia. No, no, può giocarsi. Io penso che il Frosinone ha due grossi vantaggi rispetto a... Anagraficamente è una squadra più matura anche rispetto a noi. E quindi questo sicuramente può incidere, anche se troverà una squadra il Brescia che lo è altrettanto. Perché il Brescia nel nostro Girono era una delle squadre più vecchie, diciamo, per età. Quindi da quel punto di vista lì troverà una squadra che comunque venderà cara alla pelle. Poi credo che il Frosinone ha, che ad esempio è uno degli aspetti che noi dobbiamo cercare invece di colmare, è proprio l'aspetto temperamentale, caratteriale, che dalle nostre parti, diciamo, su al nord è decisamente più fredda la situazione. Quindi questo aspetto qua potrebbe anche rappresentare magari un piccolo vantaggio. Troverà sicuramente però una squadra che rispetto a noi ha un gioco più fisico. Insomma, una squadra sicuramente un pochino più matura della nostra.